Ave gente bentornati su Prometheus, c'eravamo lasciati con qualche missione di queste delle invasioni, oggi ci tocca questa, sono cambiate delle cose, io sono le stesse attrezzature dell'altra volta, adesso mi ha spostato alla roccaforte e pretende che io faccia questa missione rispetto ad altre, ma sono rimasto un po' indietro dalle ultime registrazioni, ma non c'è stato un aggiornamento, quindi non abbiamo perso qualcosa di tanto, semplicemente fosse rimischiare le missioni stesse, ma finalmente corre, arrivati, abbiamo già fatto questo, forse si ho cambiato, scusate perché l'avevo preso sicuramente per provarlo, ho sostituito il mitra con qualcosa di diverso, ecco questo ha due colpi così, proviamo a aumentare un po' il nostro danno perché comunque l'altro si è ripetizione ma non fa gli stessi danni, quindi cambiamo un po' le carte in tavola, andati? c'è roba fuori che spara, qui stanno fuori vabbè, fuori state bene, chi vi si intruppa? non sa cosa fa qua dentro io, scusate ho la memoria di un pesce rosso, credo che questo c'è roba, ed è anche già visto, i blacktask hanno cambiato i codici di sicurezza del cavo, quindi dovrai recuperarli prima di poter entrare è vero? mi salvo ai tu di sopra no sono rimasto con le empe perchè c'ho le empe montate che dovevo fa non mi ricordo nulla non mi ricordo nulla ah e muori non mi amantava il fisico guarda si muore un membro graduato dei black tusk dovrebbe avere accesso al cavo dovrebbe mi sa il sarà muorirà non muore quello non mi ricordo il mio giubbotto un tasca in meno sparate sgranata va bene attacco il fianco un signor un signor bottino vai ballina d'accordo a te linea di tiro eh io morirei anche rilevata chiave elettronica compatibile perfetto prendi quel tesserino bravo bravo posizionario bravo posizionario lìscio bravo 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 sul fuoco è andato bravo sono finiti raccogliamo va bene per il ritroppare sta missione vai e ferma i blacktask no è finito ci metti un sacco di enfasi ma alla fine non fa il cazzo mi fa bella sta cosa mi piace è stato molto utile se li prendessi sarebbe anche meglio però chi è? sento camminare andò a stare qualcosa uno e due via finito rotto il minicale hanno utilizzato l'intelligenza artificiale autenticazione riuscita accesso possedito connessione rilevata stanno già scaricando i dati li cancelleranno una volta presi oh no forse accendono direttamente a uno di quei sistemi download iniziato si vabbè volevo lanciare la pallina porcavolo ci sei riuscito mi amasseranno uno oh che è svinuto cazzo che critico 25% eeeh questo Cosa vuole come una dannata Non si ferma più Mi dobbiamo sparare Su un ginocchio o qualcosa Sì, adesso sì Così Allora finire Quanti missi diciamo C'era il boss Mi ricordo mica Ho detto non mi ricordo niente Non ci credo Tutto quello che ti raccontano Non mi rompe Ah ah, certo Oh, ai Merda, così non va Ok, ottimo Guarda che è finito il libero Isaac non può trasferire i dati Forse è un'interferenza causata dalla struttura Torna sul tetto ZI, badrone Ci avrò anche due sosti lancia missili Sì, sto pieno Ma perché tu hai trasferito? Dicelo ma ne vado Basta No No Schifo Questa Invece in giro Di una malaria Il segnale non è ancora pulito Qualcosa a causa delle interferenze I Black Tusk hanno piazzato una qualche specie di jammer sulla tasserella Ah, no, 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 no Ma non siete tutti conto di lui No Non ho capito la pallina che fine ha fatto Ah, se stupendo La gente nonардone È un po' è mica in moda hai detto che devo usare i missili no? non l'ho usati ma che c'era che non finisce mai mezza bastava ma quanto mi piacciono gli scegli ce n'è un altro là dietro ma se c'è un jammer attivo per quale motivo io lo riesco a usarlo e molly jammer disattivato ponte dati inizializzato handshake effettuato trasferimento iniziato e l'usorella non usci 50 per te 75 per cento adios ai 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 invio completo ponte dati disattivato ora sistema gli altri blacktask e avremo portato a casa la vittoria va bene l'altra volta l'abbiamo affrontata da un altro lato e stavolta di qua invece è stato meglio penso di aver ricordato qualcosa so bravo no abbastanza danni attrezione scappa ci sono sei pari 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 almeno non basta ma poteva quasi buttasse mi ricordo che l'altra volta attaccato dall'altro lato stavolta voglio fare da qua c'è già il boss non c'è il boss bam non ti due ha mai preso niente cercheranno no Ahí Luceranno, no? Spacco le gambe Andiamo, ho fatto il culo Andiamo, ho fatto il culo Andiamo, ho preso in considerazione quello Lo sto disco un pochino, va Andiamo a sfondo, quello è il metodo, è merda Ho usato la pistola per il via del rincuro Molto basso Che dio che sta succedendo? Rantolando male Allora, la missione ovviamente si è conclusa Avete visto? Abbiamo troppato altro Dovremmo aver sbloccato qualcosa Adesso usciamo fuori E troviamo il caos Vediamo se ha sbloccato qualcosa Il vecchio comando dei raietti E ora territorio blacktask Dobbiamo cacciarli al più presto Ok Abbiamo quindi sbloccato No Questo dice De sopra E questo dice Demissioni Accesso Devo dire affrontare le missioni Va bene Spero che per il momento il video vi sia piaciuto Se così fosse vi invito a lasciare un like A condividermi Dovremo a crescere E perché no Ad iscrivervi al canale Per restare sempre aggiornati Con i futuri contenuti che pubblicherò Un saluto Da Snoopy Al prossimo video Al prossimo video